Musica Ciao figa, eccoci noi figa, per tre ore che sei in bagno guarda che qua il comandante ti stava aspettando non parte in flighting che ne siamo tutti allacciati ma vada tranquilla che parte ma vada, dai ne hai mai visto questo qua? sì che l'ho visto, è tre ore che lo usa come un porco secondo me questo qui è proprio un giargiano guarda lì certo che è un giargiano giargiano volante disagio costante guarda lì con la copertina lì mamma mia ma come si fa? vada, vada, vada vada, 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 vada vada, 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 vada vada, 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 vada vada, 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 vada mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia stavo scherzando non a che pare vi faccio un'esplosione in aereo ti mancherebbe questa è signore e signori, buongiorno è il vostro comandante che vi parla e vi da il benvenuto a bordo del volo AZ125 per Tenerife. Le condizioni meteo sono ottimali per augurare a tutti un buon viaggio, ma soprattutto ai due milanesi là in fondo. Figa ci han beccato. Già. Già, ma...